Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Quest'oggi video a street fishing Mi avete detto che mi mancavano ed eccoli qui Dunque ragazzi superiamo i 90 like per altri video del genere Dunque direi di lasciare un like, condividete il video e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti E non perdiamo altro tempo e vi è con il video Grazie a tutti Oh perchè otto finalmente il primo perchè finalmente perchè otto vai Ok? Ok? Preso Ok? 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 bel pesce bel pesce bel pesce come tira sa di perca sa di bel perca sa di bel perca eccolo qua infatti si eccolo qua un bel perca mannaggia mannaggia che mi dimentico sempre il guadino in macchina ok vai tra il sesto settimo non ricordo perso il conto preso bello 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 reale bel reale bel reale bel reale a drop shot un bel reale eccolo qua boom trentello questo eccolo qua vai ok 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 preso preso altro reale altro reale bello anche questo eccolo qua bello si eh guardate bel pesce predo giusto sulla narice sbam bello 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 bel pesce hotel perché reale che reale che reale che reale quali Sbam Sbam baby Comunque mangiano molto male Cioè devi farli proprio mangiare tanto qua i reali Dovono dare 3-4 botte Questo reale ha 50 Uff Ma ha preso lui In caduta no? No no fermo Un bel realino Trentello qua Sì, tutti così Ne ho visti tanti di così Guarda 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 Guarda